dal vangelo secondo giovanni la sera di quel giorno il primo della settimana mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei venne gesù stette in mezzo e disse loro pace a voi detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il signore gesù disse loro di nuovo pace a voi come il padre ha mandato me anche io mando voi detto questo soffiò e disse loro ricevete lo spirito santo a colora a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a colora a cui non perdonerete non saranno perdonati tommaso uno dei dodici chiamato didimo non era con loro quando venne gesù gli dicevano gli altri discepoli abbiamo visto il signore ma egli disse loro se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco io non credo otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche tommaso venne gesù a porte chiuse stette in mezzo e disse pace a voi poi disse a tommaso metti qui il tuo dito e guarda le mie mani tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente gli rispose tommaso mio signore e mio dio gesù gli disse perché mi hai veduto tu hai creduto beati quelli che non hanno visto e hanno creduto gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro ma questi sono stati scritti perché crediate che gesù è il cristo il figlio di dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome parola del signore carissimi amici di lacrime d'amore tv buona pasqua giorno di pasqua questo giorno speciale che dura tutta una settimana inizia il giorno di pasqua si conclude all'ottava tutti i giorni non facciamo altro che ripetere questo è il giorno fatto dal signore rallegriamoci ed esultiamo ed è in questo clima di gioia di giubilo del cuore che ci soffermiamo su una parola che sembra avere tutto l'opposto dell'idea del giubilo e della gioia porte chiuse il vangelo di giovanni di questa domenica ci racconta che gesù entra nel cenacolo dove le porte sono chiuse sono chiuse per paura per timore dei giudei gli apostoli i discepoli pur avendo già fatto esperienza del signore attraverso i racconti di chi era andato al sepolcro continuano ad avere paura e forse la nostra storia continuiamo ad avere paura nonostante la testimonianza l'amicizia di tanti fratelli e sorelle che incontrando il signore ci raccontano attraverso la loro vita l'amore di dio abbiamo paura nonostante che egli ci ha donato dalla croce e sua madre non solo per custodirla ma per farci custodire eppure continuiamo ad avere paura e come il signore vince la nostra paura le vostre porte chiuse attraverso il dono dello spirito è lo spirito che ci permette di spalancare le porte ma questo spirito non solo non viene dato singolarmente ma qui nel contesto è dato comunitariamente in mezzo a loro sono riuniti è la comunità è la chiesa il luogo dove il signore dona questo spirito che poi permette di andare fuori di uscire e qual è il dono dello spirito che il signore da noi la sua pace non una pace che indica state tranquilli non vi preoccupate non c'è nessun problema no è la pace che dà gioia al tuo cuore una gioia che diventa perdono che diventa accogliezza che diventa dono una gioia è un giubilo questo il giorno fatto il signore che non può restare per me e che io devo portare anche i miei fratelli certo ci sarà il rischio che i miei fratelli come Tommaso non crederanno allora io dovrò impegnarmi di più a ricevere questo dono ed amare di più questi fratelli perché possono anche loro incontrare il signore e non tenere chiuse le loro porte possa il signore spalancare le porte del nostro cuore buona pasqua a tutti voi Grazie mille 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 Grazie mille